Salve, questo è Electric Oggi cercheremo di entrare nella mente distorta di altri designer Sì, perché io mi ritengo un designer Perché là fuori in giro ci sono cose che ti fanno letteralmente chiedere Ma sei ritardato? Lanciamo pure la sigla Io quando guardo i tuoi video tolgo sempre l'audio Mi piace vederti disegnare, sei bravissimo Ma non sopporto quando parli Un po' per la voce ma soprattutto perché parli in continuazione e dici un sacco di menate Infatti metto l'audio solo quando in chiostri si sente solo la musica Mio caro Crono Sam Show Ti posso dire solo una cosa Questi occhiali sono una mia invenzione E quando li indossi ti fanno dire cose pungenti Che vanno dritte al cuore Vi faccio vedere Mio caro Crono Sam Show Perché non prendi una pannocchia La metti per terra verticalmente E ci fai una bella spaccata sopra Wow funzionano Ve l'avevo detto Ma così come questi occhiali La fuori ci sono altre invenzioni idiote Grafiche, design e cose stupide Ok? Adesso le andiamo a vedere Ok? Basta che state calmi Il primo segmento di questa serie parlerà di foto In particolare foto mal posizionate Nel caso della signora Anna Che è una modella probabilmente da 50 anni Che aspirava a diventare famosa Mostrando il bel seno prosperoso che ha Belle cose non possono andare sempre secondo i piani Giusto? Come in questo caso La signora Anna è stata posizionata In modo che le maniglie stessero proprio Sui suoi bei capezzoloni O forse è una scelta pensata E ragionata Direte voi Così ogni volta che apro la porta Beh, magari qualche vecchio di 60 anni Si eccita pure, no? Le maniglie dell'amore Ecco da dove è nato il termine Allora Sei forse un ritardato maniaco A volte funzionano A volte no Sempre per la sezione Foto piazzate a c***o di cane Qualcuno là fuori ha pensato Beh perché non fare dei bei pantaloni Con una bella texture piena di tucani Tucani Bella figa E perché non farlo in questo modo? In modo che Beh In modo che due tucani formassero Beh Ve lo devo spiegare Cosa sembrano? Ve lo devo spiegare? Perché se ve lo devo spiegare Sei forse gay? Sei forse Tardo? Ovviamente il termine gay In questo caso Era ironico Non sono un homofob bigotto Ok? Anzi Anzi Sai che Adesso per dar fastidio alle persone Continuerò a utilizzare gay In modo inappropriato Sei forse Gay Foto messe a caso Oppure Foto messe accuratamente bene Forse questo grafico Stava pensando a Terminator O voleva fare un bambino androide Ciao sono Gina E sono venuta dal futuro Per conquistare la terra Tu che hai fatto questa cosa Tu che hai messo questa foto Del bambino In questo modo Beh tu sei un grande Tu non sei scemo Sempre nella sezione foto Messe ad Di ornitorinco Perché non sottolineare Le perdite di sangue femminili Mettendo un bel fiore rosso Sul sedere di un vestito Cioè Non so voi Però potrebbe somigliare Sia a una sdiarreata Che a un'esplosione di sangue E non so voi Ma io lo trovo alquanto attraente Però ma che sei Un feticista del sangue ritardato No ma non sapevo che altro dire Sempre nella sezione foto Messe a capezzolo di cinghiale Vi presento Jim Jim qui Dai amici viene chiamato anche Jimbo E' un ragazzo coreano assai affascinante O giapponese O asiatico in generale Sì per noi sembrano tutti uguali Ma come noi sembriamo tutti uguali A loro Penso che la bellezza di Jim Risalti molto Quando viene applicata a una confezione Di salatini o patatine O non so cosa siano Ma chiunque abbia fatto il design Di quella confezione Io dico Sei forse un co- L'ultimo design grafico Della sezione foto Messe a salame dritto nel sedere Un consiglio che posso dare E avere ben presente Dove minchi andranno a finire le tue foto Su quale superficie saranno applicate Perché uno Può darsi che tu abbia davvero una bella bambina Per fare questo shooting Le foto della pubblicità che Vuoi fare A cui vuoi lavorare Ma potresti trasformare una bellissima bambina In un cacchio di mostro Se la metti su un palazzo del genere No Tu che dici Hai forse dei problemi Scusa Prima Hai forse dei problemi mentali Sei stato stuprato da bambino Da delle scimmie Di gibiterra Per caso un branco di gorilla Ti hanno pettinato il pube Fin da quando sei bambino Questi occhiali mi fanno diventare Una brutta persona La prossima sezione Tratta design di interni Discutibili Per non dire Del cacchio Se c'è una cosa che manca Nei bagni pubblici È la privacy Giusto? Forse tu sei un maniaco Forse tu sei un lurido feticista Che nei bagni pubblici Vorrebbe solo spiare Colui che ti è accanto Ti leggo nel pensiero Beh Ora puoi Soprattutto se vai in questo bagno In cui sul tetto Hanno messo letteralmente Degli specchi Sembra alluminio Sembra metallo Ma ciò non toglie Che puoi tranquillamente Spiare dall'alto Le tue vittime Quindi mio caro Maniaco pervertito Questo bagno È per te Sempre nella categoria Design interni Di me**a Io direi Perché non insegnare I bambini Nell'asilo subito Un po' di educazione sessuale Perché non fare Dei armadietti A forma di pene Per esempio È alquanto minimalista Senza dubbio Ma è senz'altro Un pene Mi chiedo Ma chi ha progettato Questi cosi Non si è accorto proprio Di quello che stava facendo Come quell'episodio Di How I Met Your Mother In cui nessuno Aveva le palle Di dire Al capo architetto Che assomiava Un pene Quel palazzo Beh probabilmente Nessuno ha avuto Le palle Capito? Per dirglielo Sempre nella categoria Design degli interni Delle bestie sataniche Che non pensano A cosa fanno Beh se progetti Un bagno E non sai proprio Dove mettere il cesso Se non hai calcolato Bene gli spazi E dici E modulo metto Beh lo spazio Createlo Ficcalo dentro il muro Di cattiveria Con intensa violenza Chi se ne frega Delle norme Ma a te io dico Ma ti sei forse laureato Corrompendo gli insegnanti Con i soldi Del monopoli Ma perché non prendi Un bel salame Ungherese intero Lo metti per terra E ci fai dieci Squat di fila sopra Eh Sempre nella sezione Design degli interni Ma in questo caso È architettura Generica Esterna Di una casa Di un palazzo Questo forse non è colpa D'architetto Ma più del Operaio Balbuziente E ritardato Che stava lì Giocando Con la finestra Cercando di metterla A bolla Ed è riuscito comunque A metterla storta Mi chiedo Forse Per giustificarlo C'è stata una forte Variazione Della gravità terrestre E quindi la bolla Andata da un'altra parte E per lui Sembrava dritta Forse al Parkinson Ne stava mettendo La finestra così Ma non lo so Dai andiamo avanti Ora entriamo Nella sezione Statue divertenti Che ho creato Solo perché ho Un'unica foto Per questa sezione Ma che vale la pena Vedere Voi avete presenti I cani no? Esseri mammiferi Discendenti dal lupo Probabilmente Beh loro Come ogni essere vivente Hanno un pene La differenza Tra molti esseri E loro Tra noi E loro E che loro il pene Lo tengono in una sacca Una sacca Un portapene Come un astucetto No? Tiri fuori il pene E lo rimetti dentro E quando si eccitano Questo esce fuori E non è un bel vedere Ma lo scultore Di questa statua A quanto pare Ha voluto evidenziare Che il pene Fosse fuori dalla sacca In questo caso E che tra l'altro Non fosse neanche Di dimensioni Discrete E guarda caso Stava giocando Con il bambino Quindi mi chiedo Ma Ma sei forse Feticista Dei animali Oltre che pedofilo E mi chiedo sempre Ma nessuno Gli ha detto niente Quando metteva Questa statua lì Quando progettava Questa statua Ehi guarda Forse Togliamo quel Togliamo quel C***o di pene Per la sezione Ambientalisti Si nasce Quando costruisce Una strada E c'è un albero In mezzo alla minchia Hai due opzioni Uno Abbatterlo Due Girargli intorno Oh no Aspetta Forse c'è una terza opzione Lasciarlo lì Costruire ugualmente La strada Una soluzione Piuttosto geniale Direi Non è neanche Molto in forma Quest'albero Tra l'altro Sembra che già Stia per morire Da un momento All'altro Eppure Lo hanno lasciato lì Ora carissimi Entreremo Nella sezione Della pubblicità Scritte E slogan Sono molto importanti Per riuscire a vendere Un prodotto Giusto? Direte voi Se io dovessi Pubblicizzare questi occhiali Direi Occhiali dell'insulto Colpisci dritto al cuore I tuoi avversari Con battute Pungenti E dolorose Una bella foto Dell'occhiale Un po' di photoshop Per raggiungere Un po' di luce figa Una bella gnocca Con due belle tette Che tiene gli occhiali Top 100.000 copie vendute Giusto? Direte voi O se no Posso scrivere Frasi ambigue Come in questo caso Something for every hole Qualcosa per ogni buco Per ogni buco Mi raccomando Non solo Non specifichiamo Quelli delle orecchie Perché Noi vogliamo essere un po' ambigui Vogliamo farvi pensare a quella cosa Noi abbiamo Ogni cosa Per ogni buco Orecchini Dildi Salami Pannocchie Ogni buco sarà soddisfatto Per una bella pubblicità Ci vuole una bella foto E se hai un bel prodotto Gli fai tu stesso la bella foto O paghi un signor fotografo E dici Ah signor fotografo Fammi una foto Però magari il signor fotografo dice Eh tu dammi 1000 euro E zitto Allora tu dici Ok allora Forse è meglio andare A cercare su google O in particolare Nei siti di stock di foto Che tu paghi delle foto Che puoi utilizzare Proprio a scopo commerciale E sono magari di alta qualità Ma se non sai neanche fare questo Se sei bravo Al massimo Ad utilizzare google Alla prima immagine che trovi La ficchi dentro dirai Eh no Questo ragazzo O ragazza qui Ha messo una foto delle carote Presa direttamente da google Probabilmente Con il logo di shutterstock Sopra Cioè non si è neanche curato Di togliere in qualche modo Quello logo Di trovarne un'altra Ma in questo modo È come dire Ho scaricato la foto E non l'ho pagata Sono grande E stavamo dicendo Che la scritta È molto importante Io qui sotto metterei Occhiali della distruzione Delle anime Bello grande Caratteri Tosti Un font deciso Ma soprattutto Un bel contrasto Tra scritta È sfondo Perché se no Potrei essere frainteso E magari invece di Game day Potrei leggere GAY Scusa ma Sei forse gay? Tutti questi gay Guarda Nascono a destra A sinistra Fanno i coming out Su youtube Ripeto È ironico O ci sono bambini Che la prendono In modo letterale E scrivono Peo Peo Ma non sapevo Che fossi Omafoba La pubblicità è importante Come abbiamo detto E se io dovessi Sponsorizzare questi occhiali Su google Basta che sgancio Qualche centinaio Di euro E mi sponsorizza Il link magari No? Me lo fa trovare Da più gente Ma bisogna scriverci Qualcosa di intelligente Come ha fatto Questo Braille Superstore Braille Per ignoranti là fuori Che non sanno magari Che cosa sia Un libro Il braille È la scrittura Puntinata Che permette Alle persone cieche Che non vedono Di leggere Grazie al tatto Beh perché non sponsorizzare Questo bel negozio online Dicendo Migliaia di prodotti braille Molti dei quali Non hai mai Visto Prima Visto Prima È una È un cacchio di negozio Per ciechi Non puoi essere più Insensibile Neanche questi occhiali Ti rendono così Insensibile Braille Ma sei forse cieco La posizione delle immagini È molto importante Se vuoi utilizzare Delle grafiche Di esseri umani Di stickman Beh se sei furbo Puoi utilizzarle A sfondo sessuale Puoi mettere Dei ciclisti Uno dietro l'altro A pecora Che si inculano a vicenda Così Hai detto due cose Uno Vai in bici È sano andare in bici Ma è ancora più sano Fare i trenini Sessuali Sulla bici Ah Così come le figure È importante posizionare Anche la scritta Vi ricordate Ho parlato prima Di contrasto Se metti il cacchio di Nero su nero Scritta nera Su sfondo nero È probabile Relativamente poi Punti di vista Che non si legga un cacchio Giusto? Beh c'è qualcuno Che probabilmente Non ci arriva C'è qualcuno Che probabilmente È stato stuprato Da dei cavalli Fin da quando è piccolo E getta tutta la sua frustrazione Sui progetti che fa Sulle cagate Sei forse gay? È molto facile Ultimamente Cadere Nella trappola razzista Ok? Ma a volte può essere Insensibilmente Esilarante Come nel caso di Dove Che sembra quasi Che la sua pubblicità Dica Prima che usi Dove Dopo che usi Dove Lava via il nero Dalla tua pelle E c'è anche la via di mezzo In cui magari Ti stai lavando E poi improvvisamente Sei bianca Sei bianca Ma sei forse un Che prende Cinque pannocchie In fila E se le ficca Tutte in Poi Si schiaffeggia Con il proprio Ma io se tolgo Questi occhiali Non so se lo sapete Ma là fuori Già girano Ibridi Parlo di macchine E non Ibridi Inteso come macchine elettriche Ibridi Letterali Che possono andare Sia su strada Che sull'acqua Come in questo caso Già stiamo avanti Anche con la segnaletica Le bici Mi raccomando Sulla strada Le macchine ibride E mi raccomando Sull'acqua Perché almeno Non impicciano la strada Giusto? I genitori Si lamentano sempre Che i cartoni Così come i giochi Di oggi Siano troppo violenti Incitino Il figlio Alla violenza Beh A voi I miei cari I genitori cristiani Mostro questo Bellissimo Gesù Crocifiggi Il tuo Gesù Da solo Il bambino Potrà imparare La religione La frustrazione Che il figlio del signore Ha provato Nel momento Della sua morte Impala tu stesso Gesù Inchioda le sue mani E i suoi piedini E lascialo morire E lascialo morire lentamente Mentre che una folla Lo insulta Woo Miglior gioco di sempre Direi Ma è davvero in vendita Questa cosa? Mi chiedo io Lo slogan potrebbe essere Sei un terrorista E odi Cristianesimo? Compra Gesù E crocifiggilo Eh vabbè Questo è quanto Per questa puntata Di design discutibili Ci vediamo la prossima volta Quando partorirò Un bambino Quando partorirò Un bambino Ma se un uomo potesse Partorire un bambino Da quale buco uscirebbe? Perché se uscisse dal pene Potrebbe far parecchio male E sarebbe tipo Il calcolo renale Più grande della tua vita O delle vesciche Come si chiama? Non lo so Ma se uscisse dal sedere Sarebbe letteralmente E retoricamente parlando Lo stronzo più grande Della tua vita